Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, questo è anche lo spirito che ci caratterizza. Io ringrazio moltissimo Prato. Ringrazio la redazione per la sala del cinema della televisione sportiva. Ci sono alcune parole chiave che caratterizzano il nostro lavoro. Ci sono alcune parole chiave che caratterizzano il nostro lavoro. Non stiamo più in ordine, per cui lì... Non siamo qui per un'ora. Allora, passione. La prima parola importante per noi è la passione, l'entusiasmo di fare e raccontare lo sport. La correttezza, la correttezza dell'informazione, la correttezza di proporsi in televisione per i nostri abbonati, i nostri telespectatori. Secondo, l'attenzione alla tecnologia, non ci stiamo al basso con tutte quelle che sono le innovazioni, cercando di fare una trosposizione di quello che ci offre in questo momento l'aspetto più importante della nostra vita in televisione. E' questo un premio che gratifica me e ringrazio molto franco per anche la nostra amicizia personale datata. Il ringraziamento e il saluto viene anche dal nostro direttore Giovanni Bruno. E il ringraziamento soprattutto viene da tutto il gruppo di Skyport, perché a Skyport siamo in 480, tra giornalisti, tecnici, registi, producer, segretari di produzione. E il nostro è un vero lavoro di squadra. La nostra è un'attenzione al prodotto nel suo insieme e visto che parliamo di una federazione internazionale devo dire che la massima esplicitazione di quello che abbiamo fatto è stato proprio in occasione dell'Olimpiade di Londra, dove abbiamo fatto 12 canali con una nozione speciale da parte del CIO. La nostra espressione viene dall'attività e la migliore espressione che abbiamo fatto viene dall'Olimpiade di Londra del 2012, dove abbiamo dedicato 12 canali esclusivi. E per tanto io, Franco, ringrazio la deduzione che presiedi e devo dirvi che questo premio ci onora, ci gratifica e ci stimola a migliorare ancora di più in futuro. I thank you Mr. Gianfani once again. This award gratified us and it is a motivation, a further motivation to improve in the future. Thank you again. Applausi! Evidentemente questo premio oggi andrà in studio a Sky Sport 24 e perciò farà bella mostra in diretta e Valentina Fassi che realizzerà il servizio si preoccuperà di portarlo perché giustamente quest'oggi a Sky si parlerà del Festival Internazionale della letteratura e della cinematografia sportiva. Of course, in gioco. Thank you, grazie, grazie a tutti. Applausi! Grazie. Grazie. Grazie.